Sono Millo, vengo dall'Italia. Penso murale. Alcora sono in un'argomento che si abbandonano dalla rinnovazione politica. Sono in un'area che necessitano di intervenire per rendere la vita meno ducata. In Italia significa una rivoluzione, ma anche il tempo che i planeti hanno bisogno di creare un cerchio completo sulle stelle principali. Voglio giocare con questi due due significati che abbiamo in Italia. Perché il ciclo è completo, è il momento di avere una rivoluzione. In industria, in ogni campo, anche in politica, quando qualcosa sta avendo, è il momento di rivoluzione cambiare. Anche in arte, quando qualcosa si arriva a un certo livello, ci si è iniziato dal punto di iniziare. Anche in un certo punto. e l'architettura è una forma di arte. Alcuni altri vengono da comici, cartoni, pop arti, o cose che vedo nella vita di ogni giorno. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info